Primo giorno di tamponi gratuiti al campus scolastico di Pesaro. C'erano tantissimi ragazzi in fila, ha commentato il sindaco Matteo Ricci, che ha postato questo video sul profilo Facebook. Sapevamo, ha proseguito il primo cittadino che sarebbe servito a questo servizio nei primi giorni dopo l'introduzione del Green Pass, perché molti giovani non sono ancora vaccinati. Il monitoraggio proseguirà anche domani, venerdì 13 e sabato 14, sempre dalle 9 alle ore 13 sotto i portici del liceo scientifico in Via Lantar. Uno staff composto da personale sanitario e volontari di Ail Pesaro, Protezione Civile e Ollus Gulliver sarà a disposizione della cittadinanza per lo screening gratuito. Una volta effettuato il monitoraggio verrà rilasciato un documento con il quale sarà possibile accedere in tanti luoghi della socialità e mostrarlo in caso di controlli. Grazie ai tamponi gratuiti i ragazzi e i cittadini in generale potranno partecipare agli eventi in sicurezza e passare ferragosto più sereni aggiunto Ricci che poi ha lanciato l'appello. Prenotate subito il vaccino se non l'avete già fatto, è l'unica soluzione per combattere il covid. Domani dalle 18 alle 22 durante l'iniziativa Candele sotto le stelle ci si potrà vaccinare nel camper mobile dell'Asura alla palla di pomodoro.